Siamo nel backstage della sfilata di MSGM sempre con GHB e questa volta il trend di questa sfilata per quanto riguarda la parte air è estrema naturalezza, quindi come vedete mi stanno facendo un mosso molto naturale, come vedete anche la riga in questo caso l'abbiamo fatta un po' come si può dire, un po' non troppo dritta, esatto, non perfetta, un po' sporcata quello che è i movimenti naturali, non troppo perfetti, quindi il trend è naturalezza e ci piatti. Ragazzi ciao, allora io sono qui con Emiliano di Walla, saluta i miei follower, allora volevo farvi vedere loro, il mio d'abbigliamento, super cool, super chic, questo è il loro lookbook, vi faccio vedere e vi dico anche che tra le pagine che sto sfogliando, guardate colori, sapete che ci piacciono, tra le pagine che sto sfogliando c'è un look che mi vedrete indossare nei prossimi giorni, vediamo se mi conoscete abbastanza e indovinate qual è. Comunque vedete, fantasia, ma abbiamo anche capi molto basici, ci piace, ci piace. Grazie. 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 Grazie.